Musica Including you, Ubuntu, anche la Fisaskat, città del capo in Sudafrica, per il quarto congresso di Uni Global Union, il sindacato mondiale dei servizi, Raineri, il modello socio-economico è da ripensare, urgente un patto tra i popoli per restituire dignità alle persone. Agenti e rappresentanti di commercio, rinnovato l'AEC anche per i 50.000 addetti del comparto artigiano, introdotta la bilateralità di settore, nuove garanzie su variazioni di zone e indennità meritocratica. Italy annuncia ai sindacati nuove aperture in Italia, disponibilità sui confronti preventivi sull'occupazione a livello territoriale. Soddisfazione Fisaskat, apprezziamo l'apertura, le relazioni sindacali sono un'opportunità per imprese e lavoratori. Camere di commercio, istituito tavolo permanente sul riordino del sistema camerale per la salvaguardia dei livelli occupazionali, oltre 3.000 ai dipendenti coinvolti. Il gruppo lombardini incorporato in Lillo S.P.A. per i 2.350 dipendenti coinvolti dal passaggio garantirà parità di condizioni normative e retributive. Per le notizie dai territori faremo tappa in Sicilia, Veneto e Lombardia. Bentornati al TG Lab, including you, Ubuntu, cioè tu incluso, in solidarietà e nel rispetto di tutti. È il tema del IV Congresso Mondiale di Uni Global Union, il sindacato internazionale del terziario e dei servizi, rappresentativo di oltre 20 milioni di aderenti e di oltre 900 sindacati affiliati. Località prescelta Cape Town in Sudafrica, città simbolo della lotta all'esclusione sociale. Sentiamo il servizio di Paola Mele. Cambiare le regole del mercato del lavoro globale, garantire la giustizia e l'uguaglianza per le persone che lavorano. Un impegno concreto, quello del sindacato internazionale Uni Global Union, che a città del capo ha definito le linee guida dell'attività di rappresentanza dei prossimi quattro anni. Philip Jennings, rieletto segretario generale di Uni Global Union, ribadisce gli obiettivi dell'attività sindacale internazionale, promozione di una più equa e sostenibile economia globale, obiettivo da realizzare con una contrattazione collettiva finalizzata ad assicurare un lavoro di qualità ed un'adeguata protezione sociale a tutte le lavoratrici e di lavoratori. Obiettivo condiviso dal segretario generale della Fisaskat, Pierangelo Raineri, presente all'assise e riconfermato tra i componenti dell'esecutivo mondiale di Uni Global Union, obiettivo da raggiungere anche attraverso una nuova visione dell'economia che sappia rimettere al centro le persone, le lavoratrici e i lavoratori. Va individuato un benchmark che faccia rilevare quanto il costo per la produzione di un bene a parità di qualità deriva dallo sfruttamento economico e sociale dei lavoratori, ha sottolineato Raineri nel corso del suo intervento, suggerendo anche di analizzare il rapporto tra il tempo impiegato per produrre il bene ed il salario corrisposto, ovvero quanto deriva da innovazione, cioè dal progresso, e quanto dallo sfruttamento dei dipendenti, cioè dalla schiavizzazione, realtà purtroppo diffusa nel mondo. Ora più che mai occorre intensificare l'attività sindacale e contrastare le diverse forme di schiavitù del lavoro e favorire nuove forme partecipative dei lavoratori alle scelte aziendali, ha concluso Raineri. Un'opportunità da cogliere nei settori del terziario e dei servizi in espansione in tutto il mondo e per i quali, secondo Raineri, è arrivato il tempo di avviare il progetto per la costituzione di un grande sindacato globale di riferimento. Il congresso di Uni Global Union è stato preceduto dalla quarta conferenza mondiale sulle donne, tre temi discussi, quelli della parità di genere e delle differenze salariali tra i sessi, la violenza domestica e sul posto di lavoro. Piaghe da debellare anche sul fronte sindacale attraverso la contrattazione, ha dichiarato il segretario nazionale della Fisaskat, Rosetta Raso, presenta i lavori con una delegazione femminile della categoria cislina. La contrattazione collettiva e aziendale potrà sostenere e migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici, prevedendo nuove norme sulla conciliazione dei tempi, senza che questo si traduca in una penalizzazione del lavoro femminile. Lottare per costruire un mondo del lavoro di parità ed uguaglianza tra i sessi è uno degli obiettivi di Uni Global Union, che per la prima volta ha eletto alla presidenza proprio una donna, Anne Selin, già presidente del PAM, il sindacato dei servizi finlandese. Appuntamento al 2018 per il prossimo congresso internazionale di Uni Global Union. Sarà Liverpool, nel Regno Unito, la città ad ospitare il V World Congress, un'occasione per commemorare e festeggiare anche il 150esimo anniversario del TUC, il Trade Union Congress, la confederazione sindacale inglese che rappresenta oltre 6 milioni di lavoratori. Si procede verso il rinnovo degli accordi economici collettivi degli agenti e dei rappresentanti di commercio italiani. I sindacati di categoria FISASCACIS, FILCAM, CGL e Wiltux hanno siglato anche con CNA, CLAI e Casa Artigiani l'intesa sulla disciplina del nuovo AEC del comparto artigiano. L'accordo prevede novità importanti sul fronte delle variazioni di zona, delle indennità di scioglimento del contratto e in particolare sull'indennità meritocratica che viene riconosciuta nel caso in cui la gente abbia sensibilmente sviluppato gli affari o creato nuova clientela con vantaggi per la casa mandante. Dal punto di vista delle tutele sociali sono state confermate le scelte già adottate negli altri accordi economici siglati per il comparto industriale cooperativo sul mantenimento del mandato per 12 mesi in caso di maternità. Anche la bilateralità entra a far parte a pieno titolo del nuovo AEC del comparto artigiano in ambito di assistenza sanitaria integrativa e per la conciliazione individuale al fine di ridurre i contenziosi legali. A questo punto possiamo dire che in tutto il comparto produttivo, industria, piccola industria e artigianato sono stati rinnovati gli AEC con normative qualificanti per gli agenti di commercio, ha dichiarato il funzionario della FISASCAT Mircoceotto. Resta ancora da rinnovare il comparto commerciale dove l'accordo economico è scaduto nel 2012. Il tavolo sarà preceduto da una riunione già programmata per il 17 dicembre prossimo, giorno in cui i sindacati stileranno la piattaforma rivendicativa oggetto di confronto con la Confcommercio e la Confesercenti. Italy incontra i sindacati e annuncia nuove aperture a Forlì, Trieste e Verona, confermando gli investimenti in Italia ed anche le mire espansive internazionali con l'apertura di nuove strutture a San Paolo in Brasile, Mosca e New York. La platea di 1670 dipendenti è dunque destinata a crescere. Il leader di Italy, Oscar Farinetti, ha anche presentato il progetto FICO, che verrà implementato a Bologna insieme a Coppa Adriatica e che rappresenterà una sorta di Disneyland del cibo, puntando a divenire un'attrazione per i turisti, ma anche una rappresentazione delle potenzialità inespresse dei settori agroalimentari ed enogastronomico italiani. Italy ha infine confermato l'interesse su Expo 2015, la grande manifestazione è dedicata alla biodiversità, dove l'azienda gestirà uno spazio di 8.000 metri quadri ed ospiterà 21 ristoranti, uno per regione, per offrire ai visitatori la possibilità di conoscere lo straordinario patrimonio enogastronomico e culinario italiano. I sindacati, apprezzando i progetti di espansione di Italy, hanno proposto alla direzione aziendale di svolgere incontri preventivi a livello territoriale, finalizzati a stabilire accordi sulla governance delle fasi di start-up dei nuovi negozi, sugli scenari occupazionali e sulle tipologie di assunzione del personale. Si apre un percorso di relazioni sindacali con una delle aziende che rappresenta l'eccellenza italiana, ha dichiarato il funzionario della FISASCAT Elena Maria Vanelli, ed è emblematico, ha proseguito, che alla crescita espansiva di questa azienda corrisponda un incremento dell'occupazione con nuove opportunità di lavoro, rivolte soprattutto alle giovani generazioni. Garantire la salvaguardia occupazionale per i 3.000 dipendenti delle unioni regionali, aziende speciali e società di struttura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coinvolte dal riordino del sistema camerale e dai progressivi tagli. E' questa la finalità del Tavolo Permanente di Confronto Nazionale sul Riordino del Sistema Camerale, istituito in ragione di un accordo siglato dai sindacati di categoria del Terziario Turismo e Servizi, FISASCAT CISL, FILCAM, CGL, Wiltux e Wile Union Camere. Il Tavolo Permanente, che tornerà a riunirsi entro gennaio 2015, declinerà le linee guida delle relazioni valide nell'ambito di ciascun tavolo regionale camerale. La FISASCAT commenta positivamente il primo protocollo nazionale siglato dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio con le federazioni di categoria dei servizi privati. Si tratterà ora di replicare la sottoscrizione di accordi a livello regionale ed aprire una fase di confronto con i rispettivi interlocutori, ha dichiarato il segretario nazionale della FISASCAT Vincenzo Dell'Orefice. Sarà prioritario definire al più presto le linee guida che presideranno alla gestione di eventuali casi di inefficienze organizzative, ha aggiunto il segretario generale della categoria CISLINA Pierangelo Raineri, con l'auspicio che la riunione del tavolo di confronto prevista entro il mese di gennaio 2015 dia seguito agli impegni condivisi nel protocollo siglato. Buone notizie per i 2.350 dipendenti del gruppo Lombardini coinvolti dal processo di fusione per incorporazione nella società Lillo. La nuova direzione aziendale ha infatti siglato un'intesa con i sindacati, garantendo la continuità occupazionale e le medesime condizioni normative e retributive con decorrenza dal 1 gennaio 2015. Entro il mese di gennaio del nuovo anno, terminata la fase di fusione, si aprirà il confronto per la sottoscrizione di un protocollo nazionale di relazioni sindacali. La Sicilia tiene banco nella nostra rubrica dai territori. 600 addetti delle società Palermo Energia, Caltanissetta Service e Publi Servizi S.p.A. di Catania rischiano di restare senza lavoro. A fine anno infatti, per le tre società partecipate che si occupano di attività di verifiche di impianti termici e fotovoltaici, manutenzione e custodia anche nelle scuole, scadono le convenzioni con le ex province di Palermo, Catania e Caltanissetta. Serve una corretta programmazione per evitare che la riforma delle province crei lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, ha detto il segretario regionale della Fisaskat, Mimma Calabrò, che ha chiesto al governo regionale e neocommissari straordinari di rinnovare le convenzioni. E sempre in Sicilia, a Palermo, si apre uno spiraglio nella vertenza GESIP, la società di servizi del comune di Palermo in liquidazione. Mille lavoratori dovrebbero essere assorbiti dalla New Co che il comune creerà in settimana. Per altri 5,850 ci sarebbe invece il via libera del Ministero del Lavoro per una proroga di 5 mesi di cassa integrazione. Una soluzione tampone che per la Fisaskat deve essere migliorata e definita entro fine anno. Trasferiamoci in Veneto. La società di fornitura all'ingrosso di abbigliamento campagnolo commercio di Romano Dezzelino in provincia di Vicenza ha avviato una procedura di licenziamento per 76 dipendenti su 131 occupati. Una situazione estremamente difficile che nei giorni scorsi ha spinto i lavoratori a manifestare. Intanto Fisaskat, Filcams e Wiltux hanno avviato una trattativa con l'azienda proponendo nell'immediato il piano utilizzo degli ammortizzatori sociali. Ed ora andiamo a Bergamo dove chiuderebbe attenti il punto vendita a Troni nel centro commerciale di Orio Alserio. Una comunicazione brutale da parte del gruppo DPS fa presente Terry Vavassori della segreteria della Fisaskat Cittadina. Una decisione che lascia sconcerto e che avviene proprio mentre Troni inaugura nuovi punti vendita a Treviso e a Palermo. A fine dicembre, prosegue Vavassori, verrà chiuso il contratto di solidarietà e l'unica proposta dell'azienda è quella di un anno di cassa integrazione, nient'altro. Nessuna ricollocazione e nessun incentivo alla mobilità. In pratica i lavoratori se ne possono andare a costo zero per l'azienda. Improponibile. Chiediamo siano subito previsti incentivi all'esodo. Ci salutiamo e vi ricordiamo che è possibile consultare il TG Lab anche su Facebook e YouTube e che potete seguire le notizie in tempo reale su Twitter at Fisaskat. Per segnalazioni e suggerimenti potete scriverci all'indirizzo mail redazione tglab-fisaskat.it Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. La Fisaskat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisaskat CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali, che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisaskat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali, alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisaskat, insieme alla Felsa CISL, ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La Fisaskat, la Felsa e la FIST sono il tuo sistema di tutela. Grazie.